Ciao ragazzi, allora ieri sera alle ore 24 in teoria sarebbe scaduto il termine per la prescrizione al corso base sul cane da guardia che noi faremo il 20 ottobre qui da me a Peveragno. Poi qualcuno mi ha scritto ieri sera, qualcuno mi ha ancora scritto stamattina dicendomi che per tutta una serie di motivi che siamo sempre presi da mille impegni non ce l'ha fatta mandarmi il vaglio, in teoria era 20 giorni che ora pubblicizzavo, ma ormai sono abituato, facciamo sempre tutto all'ultimo minuto. Siccome solo ieri in giornata si sono iscritti più del 50% dei partecipanti e oggi è domenica, allora vi do questa possibilità, se voi mi mandate una mail agli indirizzi soliti tipo info chiocciolacanidaguardia.com o un whatsapp al mio numero telefonico 349-3335-668 e mi confermate la vostra adesione, l'importante che poi mi facciate poi il vaglia delle 30 euro per la tessera della Federazione Italiana Caniaguardia che è quello che vi conferma l'iscrizione con lo sconto di 50 euro, ecco che questo voi me lo facciate entro domani alle ore 12, ok? Per quelli che invece sono ancora incerti e non possono usufruire di questa prescrizione perché devono vedere quel lavoro, quegli impegni, perché qualcuno viene anche da molto lontano, ci sono iscritti già persone dalla Sardegna, persone dalle Marche, persone dall'Abruzzo, insomma ci sono anche persone che fanno parecchie centinaia di chilometri per raggiungermi, allora sto cercando di trovare anche una facilitazione per quelli che si iscriveranno fino all'ultimo minuto, ma per garantirvi questo sconto secco di 50 euro, ovvero pagare 150 euro per il corso base, invece di 200 è necessario che voi entro stasera mi mandiate un messaggio e entro domani alle ore 12 mi facciate il pagamento, ok? Vi auguro buona domenica e a presto, ciao ragazzi!